Ben ritrovati, prima di lasciarvi in compagnia degli ospiti del Maurizio Costanzo Show, vi ricordo che domani sera è giovedì alle 21 in prima visione su canale 5, andrà in onda la miniserie in due parti diretta da Maurizio Zaccaro, i ragazzi della Via Pai, con Verna Lisi, Mario Ador e la partecipazione di Nancy Brilli. E ora guardiamo il Maurizio Costanzo Show, a più tardi.